Non tutti i mali vengono per nuoscere. Ho trovato giustificazione a questa situazione che ritengo inumana e ingiusta nei miei confronti per quello che ho fatto per la città di Roma in questo settore e anche fuori Roma perché mi ha dato l'occasione con il linguaggio della verità. Infatti nel libro Convendio io chiamo che è rivolto a coloro che vogliono e debbono sapere ma soprattutto a coloro che non vogliono vedere la verità. Quella che è stata la storia dei rifiuti di Roma nei 70 anni in cui ho lavorato. Tralascio la prima parte che va fino al 1960 che è la soluzione artigianale, la soluzione dei contadini che vengono in città, scaricano i loro frutti, le loro verdure, riportano i rifiuti. Passiamo invece alla fase industriale. Roma si trasforma, trasforma la raccolta del trasporto e lo sbaltimento dei rifiuti nel 1960 con l'evento delle Olimpiadi. Si divide in quattro settori e si presentano gli impianti. Io che ho fatto 14 anni di apprendistato, interessante vedere i rifiuti girando il mondo eccetera, presento un progetto ideato per poter realizzare questo primo impianto di trattamento del recupero dei rifiuti. Impianto che si realizza a Ponte Pallò e che viene inaugurato nel 1964 da Petrucci, da Citaco Petrucci e Caldinacea, così come si realizzavano allora le inaugurazioni di questo impianto. L'impianto contro ogni previsione diventa il centro di riferimento del mondo intero che vede questo problema dei rifiuti con tutti i componenti che ancora possono essere riutilizzati e recuperati. I giapponesi in modo particolare, i Belgi, tutto il mondo eccetera. Nessuno, solo dopo noi, ci siamo resi conti che quel giorno era nato il capostivi degli impianti di recupero di Roma. La Treccani lo riporta, lo riportano i giornali. Le guide turistiche addirittura nel visitare Roma segnalano questi impianti e da qui nasce il recupero dei rifiuti. Da Ponte Malnome si va a Roccacencia, Roccacencia ha i quattro impianti, fino a che nel 1900, dopo 10-11 anni, 1975-76, viene la giunta comunista a Roma e decide che questi impianti devono essere, era Vetere, Petroselli eccetera, devono essere privatizzati, devono essere pubblicizzati. E' cosa che accade. Infatti, il 6 settembre del 1979 gli impianti vengono pubblicizzati. Vanno i tilt. Noi avevamo detto, chiaramente, guardate che vi prende gli impianti, ma questi impianti sono difficili di gestione, possono essere gestiti pubblicamente eccetera. Comunque, Roma va in difficoltà. Va in difficoltà, Petroselli mi chiama e mi dice, benissimo, tutto quello che si è programmato, tutto quello che si è stato previsto è finito come è finito. Quindi troviamo il modo di risolvere il problema dei rifiuti di Roma e poi noi non ne vogliamo sapere più niente. Quindi arriviamo all'inizio degli anni Ottanta, con Roma che produce un milione e settecento, un milione e ottocento mila tonnellate. L'anno dei rifiuti non sa più come smaltirsi. E da qui nasce Malagrotta. Inizia Malagrotta lo smaltimento dei rifiuti tal quali nella città di Roma. Niente di particolare, perché nel 1984-85 i rifiuti italiani per l'85% vengono smaltiti per discarico. Va avanti Malagrotta. In parallelo si pensa a ricostruire la parte industriale. E si va avanti con la parte industriale, facciamo gli impianti, facciamo gli impianti. La posso interrompere un attimo? Lei ha fatto un brevissimo escursus partendo... No, no, poi la lascio finire, perché così le do subito la possibilità di rispondere a una piccola provocazione. Lei giustamente anche nel libro si vede l'inaugurazione con Petrucci del 54, c'è una foto del 64. E a parte la parentesi che appena ricordato in cui si vuole che sia il pubblico a gestire con i risultati ricordato, cioè il pubblico decide di gestire e poi fa marcia indietro e gli dice no, è meglio se continui, caro Cerroni, a occupartene tu. Ma il fatto proprio che partiamo dal 1964 e oggi siamo 2014 anno del Signore, non è un argomento a favore di chi l'attacca dicendo lo vedete che in fondo sono 50 anni esatti che Cerroni ha in mano il monopolio della gestione dello smaltimento dei rifiuti della città di Roma? E come è stato possibile mantenere questo monopolio, definizione che lei non accetta, come è ovvio, però mettiamoci nei panni dei suoi critici, come è stato possibile cambiando sindaci, cambiando gestione, se non con un rapporto evidentemente privilegiato con tutto il mondo della... non con una parte della politica, con tutto il mondo della politica? Prego. Ah, la risposta è semplice, perché l'amministrazione, perché la città non ha trovato mai soluzioni alternative, nessuno che si è proposto di fare impianti di investimenti e gestire questo, perché io sono, se Cicerone è sinonimo di eloquenza, io sono sinonimo di monnezza, perché noi e solo il nostro gruppo, partendo da Roma in tutto il mondo, ha fatto gli impianti di trattamento dei rifiuti in modo razionale, efficiente ed economico, perché Roma è scritto nel libro, non solo ha risolto il suo problema, ma a fronte di Milano, che nel 1995 è andato in crisi e ci ha chiamato a noi per risolverlo, e l'abbiamo risolto alla Maserati in otto mesi, ha speso il doppio, il triplo di quello che ha speso Roma, perché non ci sono soluzioni alle nostre soluzioni che abbiamo proposto. Non solo, ma dopo aver risolto il problema attraverso la Maserati, e stavo proprio chiudendo questo, arriviamo al 2009, dove noi avvertiamo tutti, diciamo, signori state attenti, perché Malagrotta è in esaurimento, la vostra fortuna, la vostra salvezza sta per terminare, perché io ho scritto al sindaco Alemanno, tra l'altro, nel 2018, attento, preparatevi, perché la sfortuna e la salvezza di Roma che è stata Malagrotta per i rifiuti, sta terminando, in quanto nel trattamento dei rifiuti, il discorso così è una notizia che è bene che sappiano tutti, sono tre le fasi, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, posto 100, il costo dello smaltimento si agisce dal 25 al 33-35%, questi sono i costi che si fanno. Io ad Alemanno, ho scritto allora a settembre, portando il raffronto di 15-20 città più importanti, dove c'erano percentuali che andavano dal 25 fino al 41%, Roma aveva la percentuale, il costo dello smaltimento del 17%, il che significa almeno 10 punti meno degli altri, il che significa che se il costo è 700 milioni, il che significa 70 milioni di economia l'anno, il che significa 3 recuperi del Colosseo, se il Colosseo costa 25 milioni l'anno, questa è la situazione che abbiamo noi rappresentato a Roma, che sta rappresentata qui. Ma ci siamo preoccupati dicendo attenzione, qui sta per terminare la volumetria perché questa volumetria ha una fine, non può continuare all'infinito di questo, e noi da imprenditori che facciamo, presentiamo tre soluzioni, presentiamo Quadro Alto, Pian dell'Olmo e presentiamo gli Ortacci nell'ordine, ma Quadro Alto diciamo è la soluzione più importante, la progettiamo, facciamo AIA, facciamo tutte le pratiche, ma le pratiche rimangono ferme alla regione, perché rimangono ferme alla regione, perché il monopolista, perché gli ordini sono, si trovino tutte le soluzioni, vada anche in crisi Roma, ma che non si dia monopolista all'avvocato Cerroni di questo. Scusi, questo ordine di scuderia secondo lei chi l'avrebbe dato? L'ha dichiarato la Polverini, l'ha dichiarato pubblicamente, l'ha dichiarato il direttore Marotte, il direttore dei servizi, quando l'hanno interrogato, questo è negli argomentiati, ma c'è di più riferito a questo, mi dicono a me, ma guarda sa sempre monopolista, che poi non sono monopolista fino a un certo punto, perché il trattamento industriale è metallo fa lama e metallo facciamo noi, è monopolista della discarica, vengano altri, mi suggerisce Alemanno stesso, guarda, fai un atto di generosità, offri all'ama il 50%, e io scrivo all'ama e concordiamo con l'ama, che se facciamo la discarica al Quadro altro, la nuova discarica dopo Malagrotta sarà gestita insieme, dall'ama e dalla cosa. Cosa le hanno risposto? Ho fatto niente, la risposta è stata che non se ne è fatto niente, perché in ogni caso c'era di mezzo il monopolista, io ho fatto... Scusi, però è stato in quel momento, mi perdoni per chiudere anche per i colleghi che ancora non hanno letto il libro, in che lei dice, strano a dirsi, noi abbiamo ragionato su questa ipotesi con quella tripletta in ordine decrescente, e poi invece a un certo punto col commissario Stavoliano ci siamo trovati che è saltato fuori Corcolle, giusto? Certo, sì. Come mai secondo lei, visto che lei scrive, ma era un'ipotesi che fino a quel momento nessuno aveva mai tirato in ballo? Certo. Che spiegazione si è data? Rispondiamo anche su questo, attenzione, alle nostre proposte non si dà risposta, anche se è un atto dovuto da parte dell'amministrazione, non dando risposte ci arriviamo al 2011, dove senza risposte viene l'istituto del commissario, intervenga il commissario a trovare una soluzione, e il commissario, la regione dice, non solo ci sono i siti qui proposti dal monopolista, ma ci sono altri otto siti, altri sette siti, e tra i vari siti c'era il Lumiere, il Lumiere scompare e viene fuori Corcolle, viene fuori Corcolle con tutta la polemica che comporta Corcolle, al punto che indipendentemente da Corcolle c'è l'imminenza, che non c'è più volumetria, allora facciamo incontro, questo lo dico ancora nel libro, facciamo incontro in Prefettura col Prefetto Becoraro, col Dottor Marotta, eccetera, che si fa? E mi dicono a me, tu sei il monnezzaro, trova la soluzione. Così, vi hanno detto, tu sei il monnezzaro. Certo, troviamo la soluzione, parlando, sei il monnezzaro, chi meglio di te può trovare la soluzione, io propongo la soluzione di qua, c'è da fare una cosa sola, c'è all'interno di Malagrotta recuperare una volumetria che ci consenta di non mandare Roma in emergenza in attesa che si trovi la soluzione della nuova discarica, e più ancora che funzionino anche gli impianti, perché allora gli impianti funzionavano a scartamento ridotto, perché gli impianti funzionavano a scartamento ridotto, ma perché la gestione dell'impianto ha un costo, la gestione per lo smaltimento dei rifiuti, la gestione della discarica ha un'altra, quindi uno che deve pagare, anziché 100, se il suo problema lo risolve paga 50, paga 30. Quindi avete di fatto ampliato Malagrotta? No, 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 non so, di fatto non dipende tanto di noi, è stato il buon Dio che ci ha aiutato, questo accade a settembre, allora bisogna assolutamente per la fine dell'anno trovare volumetrie perché sennò finisce peggio di Napoli, perché a Napoli sono poche centinaia di a Roma, sono migliaia di tonnellate al giorno, e noi Malagrotta risponendo dei mezzi mostruosi, io li chiamo mostruosi perché Malagrotta è il primo cliente della Caterpillar in Europa, a 57 metri, lavorando notte e giorno, tiriamo fuori una volumetria sufficiente per affrancare Roma. 1.280.000 tonnellate, attento, ma perché dico ci aiuta il buon Dio? Perché vedete anche le condizioni climatiche certe, settembre fino all'8 dicembre del 2011 non casca una goccia d'acqua e quindi si lavora notte e giorno e salviamo Roma, salviamo Roma tanto è vero che nella riunione di Natale il prefetto, il prefetto, il prefetto, dice ancora una volta loro sono intervenuti e hanno salvato Roma grazie e la città gli deve essere grata di questo, questo è stato il primo intervento che ha salvato Roma, ma attento perché Roma poi ha dovuto fare il commissario, perché l'Europa, la Commissione ha contestato all'Italia l'infrazione che a Malagrotta non potevano, non dovevano essere comunque conferiti i rifiuti non trattati, allora bisognava trattare i rifiuti con la polemica che è venuta a Corcolle il prefetto si rimette e viene il prefetto Sottile, il prefetto Sottile che fa ordina di lavorare, contratto o non contratto, soldi o non soldi a pieno ritmo, gli impianti dell'AMA i due TMB dell'AMA di Roccacencia e del Salai, i due impianti di Malagrotta e noi lavoriamo a pieno ritmo, ma non basta ancora, questo è il secondo intervento, perché una quantità ancora di altre 1000 tonnellate al giorno deve essere trattata e io propongo ancora la soluzione e dico allora nella stazione di Roccacencia montiamo un impianto di durazione e così facciamo così, si faccia anche questo, perché dobbiamo rispettare che entro il 10 di aprile Roma tratti tutti i rifiuti, perché solo così la comunità europea ritirerà l'ammenda che prevede addirittura un milione di metri e noi arriviamo all'ultimo momento a risolvere questo, nell'atto finale del libro io dico che sono stati tre i passaggi, il milione 280 mila a Malagrotta, è stato lavorare gli impianti a pieno ritmo e installare e gestire, questo ha salvato Roma, però questo salvataggio lo abbiamo fatto noi, lo abbiamo fatto noi, proposto e realizzato a nostro rischio con i nostri investimenti.